Avvocato Ginalupo, Assessore del Comune di Taranto alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, lo Spartan Race, un evento davvero storico, se ridire, per la città di Taranto. Ecco l'apporto che ha dato il suo Assessorato all'iniziativa. Io mi sono dovuto occupare di tutto l'itinerario culturale per accogliere i turisti che immaginiamo saranno presenti in questi due giorni, perché se è vero che ci sono oltre 4.000 atleti iscritti alle varie gare dello Spartan Race, è anche vero che dobbiamo preoccuparci del sabato pomeriggio, del sabato mattina, della domenica mattina, al fine di fare mostrare, dimostrare a queste persone le bellezze della città. Ecco, avete coinvolto anche le scuole. Beh, io sì, ho avuto questa intuizione di chiedere un aiuto a quegli istituti superiori che hanno una vocazione linguistica e sono stata felice che i vari dirigenti hanno aderito alla mia richiesta. Infatti abbiamo ricevuto un apporto notevole. Innanzitutto, permettetemi di ringraziare il liceo Aristos e il liceo Maria Pia, perché gli studenti di quei licei hanno effettuato delle traduzioni dei siti più importanti della città, dal Castello Aragonese, alle Colonne Loriche, all'Ipogei, in tutte le lingue, compreso il cinese. Quindi saranno predisposti per questi due giorni degli stampati a cura proprio degli studenti di questi licei. Penso all'Istituto Righi, che addirittura ha creato una rappresentativa al fine di far partecipare i ragazzi della nostra città allo Spartan Race. Penso anche all'Archita, i cui ragazzi con gli strumenti musicali suoneranno gli inni insieme alla fanfara dei bersalieri, il sabato mattina alle 8, proprio come starter dall'area Cimino. Quindi tutte queste scuole hanno veramente dato un contributo notevole e sono molto felice perché tra l'altro lui e i ragazzi saranno presenti in centro per accogliere e parlare le varie lingue. Quindi ho pensato che quale migliore palestra per i nostri ragazzi mettersi all'opera cercando appunto di essere accoglienti con i turisti, cercando di parlare tutte le lingue. Quindi saranno presenti con il loro distintivo che rappresenta la scuola proprio nei siti più importanti. Taranto per una volta assume una dimensione internazionale. Beh sì, io sono un po' preoccupata perché l'evento è veramente molto grande. È una cosa impegnativa però stimolante. Spero che vada tutto bene, mi appello anche ai nostri cittadini che devono dare un contributo. Abbiamo cercato di rendere accogliente il centro, il borgo cittadino coinvolgendo tutte le piazze di Taranto, da piazza Garibaldi dove ci sarà una mossa di Antiquariato, lo Spartan Antiquariato, da piazza della Vittoria dove ci sarà un video che rappresenterà e farà vedere le bellezze di Taranto, da piazza Maria Immacolata dove ci sarà una mossa enogastronomica. Guardate, ho sentito delle critiche che sinceramente mi hanno dispiaciuto. Ho letto addirittura sui social che avremmo trasformato un evento culturale in una saga. Beh innanzitutto si tratta di un evento sportivo, lo voglio replicare a chi ha fatto queste critiche. Ma quale vetrina migliore? Far vedere a tutti questi turisti che vengono da luoghi anche lontani, pensate dal Minnesota, dall'Arkansas, dai luoghi più sperduti americani, anche far conoscere e apprezzare le nostre bellezze enogastronomiche. Quale migliore vetrina? Sperando che queste persone parlino bene della nostra città e ritornino, perché lo spartarese non è soltanto quest'anno, potremmo essere sede dello spartarese per altri ben due anni. Sicuramente sono certa che l'anno prossimo si farà tesoro di quello che abbiamo impiantato quest'anno, sicuramente per migliorare.